EA Sport To the game Lega Serie A presents Serie A Team Questa sfida ci farà capire a che punto siamo e quanta strada dobbiamo fare per migliorare. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Squadra ospite che scenderà in campo forte della vittoria dell'andata proverà magari a giocare di riflesso, di attesa e ripartenza. Non è mai una grandissima idea quella di rintanarsi in difesa. Io spero proprio che non sceglieranno questa tattica. La Fiorentina, una squadra che oggi vuole fare meglio, ha ottenuto un pareggio nell'ultimo match esterno, quello contro l'Atalanta. Si sono dovuti accontentare di un pareggio per uno a uno, nonostante avesse meritato di vincere. Probabile che ci riescano oggi. Diamo un'occhiata a due dei possibili protagonisti di questa sfida che oggi si affronteranno in campo. Vabbè, due ottimi giocatori in grado di cambiare le sorti del match da un momento all'altro, magari proprio con un loro gol. Vediamo dunque cosa saprà regalarci oggi la Fiorentina, protagonista di questa sfida. Ci si attende molto dalla squadra viola, reduce da alcune stagioni non di altissimo livello. Hanno giovani interessanti e di grande prospettiva, già corteggiati da diversi top club. Bisogna però dargli il tempo per crescere e fare esperienza sia in campionato che in Europa. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-3-3, il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento, schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno. Potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Squadra un po' criticata perché magari concede poco lo spettacolo. preferisce rintanarsi in difesa e prova semmai a ripartire. È vero, tendono a schierare parecchi elementi dietro la linea della palla quando non hanno il possesso. Quasi a voler invitare l'altra squadra a scoprirsi. Vedremo se sarà così anche oggi. Pallone per la Fiorentina per questo inizio del match. Occhio al traversone. La mette in mezzo. Difesa ha un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. No, non gracchiai qui, la girata di testa vuole essere buoni. Buona l'idea, senza problemi però il portiere. C'è il tocco sulla fascia. La mette in mezzo. E il pallone finisce in gol. E con questo gol si riportano in perfetta parità. Qualificazione più che mai incerta. Replay che ci permette di apprezzare meglio l'azione dalla quale è scaturito il gol viola. L'attaccante ha avuto la palla buona e non ha sbagliato. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui. Che spettacolo, davvero pregevole. Cross perfetto per l'attaccante che non si è fatto pregare e l'ha messa dentro. Ottimo l'inserimento della conclusione, niente da fare per il portiere. Ci sono metri a disposizione. E sarà a rigore. Gli interventi duri ci stanno, però qui l'impressione è che si sia andati un po' oltre. Anche l'allenatore sembra non gradire troppo. Trasformazione perfetta. Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. E dopo la fine della prima frazione, dunque, due a zero, squadre che tornano negli spogliatoi. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo. Un gol, questo, che potrebbe rivelarsi decisivo. Tutto pronto? Comincia la seconda frazione. Simeone! E c'è il gol viola! Un gol bellissimo. Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto. E ha trovato la rete. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi. La sua squadra stanno dominando il match. Match che finisce qui. Il risultato della doppia sfida li vede dunque vincitore di questo turno. Sì, possono proprio essere soddisfatti. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Non si è lasciato tradire dall'emozione in occasione del rigore. Nel complesso è stato tra i migliori della sua squadra. Risultato giusto. Potevamo segnare qualche altro gol, ma va bene così. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto da Pierlu Gipardo e benvenuti a questo match con me come sempre Stefano Nava a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro abbia il fischio d'inizio. Speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Il match di oggi è tra Fiorentina e Chievo. Decisamente sotto tono fino a questo momento le prestazioni della squadra di casa, ben al di sotto delle previsioni della vigilia. Campionato mediocre e il loro si è confrontato con quelle che erano le premesse della vigilia. Difficile che possano raggiungere la zona Champions Cup continuando a giocare in questo modo. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-3-3 il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi con due sterri offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro, dalla difesa avversaria. Stefano, che partita possiamo aspettarci da loro oggi? Credi che ricorreranno come spesso succede al sano vecchio contropiede dell'italiana? Perché no, Pier? Non si è dimostrato una tattica efficace in passato e come si dice in questi casi, tattica che vince non si cambia. Il Chievo ci sta prendendo gusto. Stefano è chissà che a forza di guadagnare salvezza su salvezza e prima o poi non riesca anche a tornare in Europa, come già avvenuto in passato. Ogni stagione fa storia a sé, ma la costante è la gestione oculata sia a livello economico che tecnico. I giocatori giusti al prezzo giusto. Questo è il segreto della formazione giallo-blu. Si comincia. Occhio alla ripartenza. Buon pallone filtrante. Può far male da lì. Inglese! Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Attaccante al posto giusto nel momento giusto qui, al contrario del portiere che ha lasciato troppo spazio nella propria porta. L'ha dovuta solo appoggiare in rete. Un gol facile facile. Uno spettacolo. Inglese. Baragna metri. Inglese! Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. Gran palla in mezzo. Attaccante che si è rinvolato tutto solo verso la porta ma che si è bloccato proprio sul più bello. Prova ad andare. Punizione che meritava una sorte certamente migliore. La palla non è scesa abbastanza finendo per spegnersi oltre la traversa. Non sembrava male la traiettoria ma il pallone non è sceso e dunque è finito alto sulla traversa. Cerca il cross basso. Hanno trovato il gol del pari. I loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque. Si ripatte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare le linee del match al loro vantaggio. Deviazione sfortunata col pallone che finisce in rete. Sono gli inconvenienti del mestiere. Capita. Attenzione a Birza. Castro cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiere Stefano. E questa piera è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Meraviglioso il tiro all'effetto di questo giocatore. Ha calciato benissimo. Con grande tranquillità. Davvero molto bravo. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. L'allenatore non ha preso bene. Gol scaturito dall'ultima azione. Ora sono sotto e dovranno darsi da fare per rimontare lo svantaggio. All'occasione per riaprire il match. Sarò di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano. Non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Il portiere l'ha toccata ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. E dopo 45 minuti di gioco dunque il punteggio è in parità sul 2 a 2. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Ha mandato in frantumi le speranze degli avassari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro nella ripresa. Continua a piovere. Si gioca. Comincia il secondo tempo. Va con il possesso palla. Cerca il traversone. Portiere che svetta la conclusione senza particolari problemi. Attenzione a Birza. Giaccherini. Intervento. È calcio di rigore. Penalti e giallo. Mi sembra una decisione corretta dell'arbitro. Sì, non era chiaro occasione da rete. Giusto il giallo e non il rosso diretto. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne accorga. Frettissimo dal dischetto. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. È stavolta vinto lui. Il linguaggio del corpo del tecnico non lascia molti dubbi. Non deve aver preso bene questo gol. È come normale che sia. Ecco il tribice fischio che mette fine al match. Sconfitta che brucia molto. È arrivata al termine di un match sostanzialmente equilibrato. Meritavano forse qualcosa in più. Le due squadre hanno giocato alla pari per larghi tratti dell'incontro. Questa sconfitta non ridimensiona affatto. La loro prestazione di oggi. Buona la sua prova. Decisamente sopra la media può fare ancora di più. Ovviamente, ma insomma, già un buon punto di partenza. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. Cercheremo di tornare subito al lavoro e correggere gli errori commessi. Grazie a tutti. 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 Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Ci attende un match. Tutto da vivere. Due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate carattere. Un saluto a tutti da Pieroggi Pardo. Match tutto da vivere che commetterò, ovviamente, con Stefano Nava. È sempre un piacere. È sempre un piacere, Piero. Amici a casa, ci siete, siete pronti? Eh sì, mi rivolgo a voi. Mettetevi comodi, allacciate le certure, perché ho l'impressione che ne vedremo delle belle. Di scena nel match di oggi, Udinese e Fiorentina. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano la vigilia, con diverse squadre che possono dire da loro per il titolo. In effetti sono rimasto soppreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato. I campionati combattuti punto a punto fino all'ultima giornata sono sicuramente più avvincenti. La Fiorentina, squadra che oggi vuole dimenticare lo stop interno subito contro il Chievo. Penso che la sconfitta per 3-2 sia stata un semplice incidente di percorso e che possano tornare al successo già oggi. Squadra un po' criticata perché magari concede poco lo spettacolo, preferisce rintanarsi in difesa e prova semmai a ripartire. È vero, tendono a schierare parecchi elementi dietro la linea della palla quando non hanno il possesso. Quasi a voler invitare l'altra squadra a scoprirsi. Vedremo se sarà così anche oggi. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico. Segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato un match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Comincia dunque la gara. Occhio alla ripartenza. Simeone. Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Non poteva non segnare da quella distanza. Bastava solo appoggiarla in rete. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. L'allenatore gioisce dopo il gol del vantaggio. E qui possiamo vedere la sua reazione. Provano a sfruttare bene. C'è spazio davanti a sé. E c'è la conclusione. Che gol! Splendida rete! Grande coordinazione. Grande traiettoria. Deve essere insaccato sotto la traversa. Ha trovato una traiettoria pazzesca. Un gol straordinario. È davvero un bel gol. Riuscito ad imprimere alla palla una traiettoria. È sorpreso il portiere. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Guadagni a metri verso l'area. Attenzione pericolo! Non riesce a bloccare. Attenzione! Crossa verso il centro. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. E dopo 45 minuti di gioco. Dunque 2 a 0 il punteggio. Primo tempo incoraggiante il suo, giocato su livelli interessanti. La sua tenacia viene premiata con un gol. che permette alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Il tecnico spera che possa ripetersi sugli stessi livelli anche nella ripresa. Fiorentina avanti dopo il primo tempo. Comincia adesso la ripresa. Occhio a questo rancio. Attenzione pericolo! Palla sul palo e poi in gol. Niente da fare qui per il portiere. C'è questa conclusione angolatissima. Ha trovato un gol di sponda. Grande gol per la palla che è entrata dopo aver picchiato contro il palo. E il tecnico non l'ha presa bene. Sono ancora in vantaggio, sì, ma ora il loro margine è di un solo gol. Lasagna. Occhio da Alfredson. Prova a andare. Dice Milo. Guarda sul fondo. Sarà calcionato. Buona la sua prestazione. Ci si aspettava molto da lui. Non ha tradito certamente le attese. Cross verso il centro dell'area. Deviazione sopra la traversa. Finisce la gara. Tutti negli spogliatoi. E' l'arbitro che fischia dunque la fine della gara. Quali sono le tue sensazioni a caldo, Stefano? Io mi sono divertito. Partita combattuta. Era evidente che i giocatori in campo sentivano, percepivano molto questa sfida. E ci tenevano moltissimo a vincere. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha inciso sul risultato finale andando a segno e contribuendo alla vittoria della sua squadra con una buona prova. Per quanto riguarda il match, devo dire che è stata una partita molto dura. Prendiamo tre punti importantissimi per la classifica. Prendiamo tre punti importanti. Prendiamo tre punti importanti.